Savona va alla Consot. Vi stupisce? Ma no. Quando un partito, ma vale anche per un governo, un movimento culturale, una coalizione elettorale, soffre di mancanza di classe dirigente perché si è costruito completamente su idoli, uomini metafore da dare in pasto alla stampa. È normale che poi i nomi che girano e che rigirano, ma guardate, è normale, sono sempre gli stessi. È sempre stato così. Che Savona sia ministro o presidente della Consop poco cambia. Non è il ruolo. Basta che ci sia. Che sia lì esposto, visibile, per riempire la pancia dei fan. Peccato che Savona e la Consop violi proprio quelle regole che piacciono così tanto al Movimento 5 Stelle, no? Quelli della meritocrazia, del giovanilismo, del ricambio generazionale e poi dell'onestà. Viola la legge Frattini, siamo nel 2004, quella che regola i conflitti di interesse. È quella legge che dice che chi ha ricoperto un incarico di governo deve aspettare almeno un anno per ricoprire un ruolo dirigenziale pubblico. È stata pensata, è stata fatta per questa moda tutta italiana dei trombati che trovavano subito parcheggio. E invece la seconda legge violata è la legge Madia, siamo nel 2014, che stabilisce che alcuni pensionati, anzi che i pensionati, non possono assumere incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. In alcune pubbliche amministrazioni che sono definite bene, chiaramente e indovinate un po' chi c'è in mezzo alla lista, la consul. Ma fa niente, dicono che va bene. La terza ragione di incompatibilità è che Savona è socio del fondo Eoclipo, un fondo speculativo con sede a Londra, del quale Savona era presidente fino a un minuto prima di diventare ministro. Dico, mica l'uomo delle polizie, presidente. Quelli comunque dicono che si tratta di un fondo londinese. E allora dicono, ma cosa sentiamo noi con londinese? E no, abbiamo il dovere di stare tranquilli. C'è altro. Paolo Savona, in otto mesi, otto mesi da ministro degli affari esteri, colui che doveva farci uscire dall'Europa, Paolo Savona non ha mai partecipato ad una riunione pubblica con gli altri ministri. Mai. Ma nemmeno una. Che uno pensa? Ma sarà per questo? Che si è stufato subito. Poveretto. Su quanto conti invece far crescere anche in politica una classe dirigente per non rimanere attaccati ai vecchi dinosauri? Ecco, allora ci torniamo un'altra volta. Anche perché è un tema su cui la sinistra ne sa qualcosa. qualcosa. Ne sa bellissimo. Citofonata da Lema. Buon giovedì.